La critica è facile da fare perché uno guarda la ghiaia, diciamo come la ghiaia è super permeabile, è venuto giù un ammasso roccioso di fatto praticamente compatto, come possono le due cose essere paragonabili. Bentornati alla serie dedicata alla memoria del disastro del Viont, nel primo episodio, disponibile al link in descrizione, trovate maggiori informazioni sulle dinamiche del disastro. Ora, come di consueto, è il momento di dare la parola alla voce del Viont, professore associato dell'Università degli Studi di Padova presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale, e il direttore del Laboratorio di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. Signore e signori, abbiamo il piacere di avere con noi oggi il professor Luca Carniello. Benvenuto Luca, come va? Bene, grazie, grazie per l'invito. Grazie a te per essere con noi oggi. Con te parleremo di un aspetto fondamentale della vicenda del disastro del Viont, ma che non sempre viene affrontato in maniera approfondita. Sto parlando del modello in scala della valle del Viont, realizzato presso la centrale di Nove di Vittorio Veneto, sul quale sono stati condotti esperimenti per stimare l'altezza dell'onda generata dalla caduta di una frana all'interno del bacino. Prima di addentrarci nei dettagli, però, volevo chiederti, il modello di Nove è stato quando studiavi per conseguire la laurea in Ingegneria Civile Idraulica, oppure è adesso che sei titolare di diversi corsi presso l'Ateneo Patavino, trattato come argomento durante le lezioni? Allora, sì, diciamo, quando studiavo, io mi sono laureato nel 2001 e le prime volte che ho sentito parlare della teoria della similitudine, che è di fatto la teoria che sta alla base della modellazione fisica, di cui dopo magari avremo modo di parlare velocemente, ecco, di queste cose ho sentito parlare per la prima volta durante il corso di idraulica, poi durante il corso di misure e controlli idraulici, e anche adesso che, per esempio, il corso di misure lo insegno io, mi capita di, anzi, è uno degli argomenti, è proprio quello della teoria della similitudine. Devo dire la verità che è la prima volta che però ho sentito parlare del disastro del Vaiont, del modello del Vaiont e quindi dell'applicazione di questi concetti a questo caso specifico, è stato in occasione di un seminario che ha tenuto il professor Dalpaos, il professor Dalpaos, Luigi Dalpaos, è, se vogliamo, il mio padre accademico, per cui noi abbiamo questo modo di dire, per cui il mio professore è il professor Dalpaos, il quale a sua volta è stato invece discepolo di Ghetti, che è il professore che ha, diciamo, realizzato le prove sul modello. Ecco, in occasione del cinquantesimo anniversario del Vaiont, quindi nel 2013, il professor Dalpaos ha tenuto un seminario per gli studenti del suo corso di idrodinamica, in quel caso, e ha descritto, diciamo, tutta la storia del Vaiont, affrontando anche un po' la questione del modello fisico, e quindi quella è stata per me la prima volta che ho, diciamo, visto e ascoltato, diciamo, un racconto completo di quello che è successo dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista dell'idraulica. E poi, sempre con il professor Dalpaos, quell'anno ricordo che poi abbiamo proseguito, diciamo, la tematica, accompagnando gli studenti sul Vaiont, sul Vaiont, e quindi abbiamo completato, diciamo, la descrizione in occasione del cinquantesimo con anche questa visita. E mi è capitato più volte a me di fare altre visite negli anni successivi con gli studenti dei corsi degli anni successivi, sempre sul Vaiont. Ricordo una volta che siamo stati via addirittura due giorni, e abbiamo visitato, vabbè, siamo saliti sulla diga, abbiamo visto il coronamento, eccetera, e poi abbiamo fatto una camminata che ci ha portato dalla diga lungo un sentiero fino all'abitato di Casso, quindi è stata anche particolarmente, diciamo, impegnativa, niente di dimostrare, insomma, è stata una bella camminata, e soprattutto la fatica per arrivarci, e il fatto di vedere quanto tempo ci si impiega ad arrivare lassù, e vedere la diga dall'alto, e immaginare, sapere che quella notte l'acqua è arrivata fino allassù, quasi 200 metri, anzi, più di 200 metri più in alto, è effettivamente molto di impatto, oltretutto avendo la frana di fronte che si mostra ancora in tutta la sua evidenza. E quindi sì, anche, ripeto, più volte ho fatto questa gita, e quindi di conseguenza ho anche, diciamo, riproposto la tematica agli studenti. L'ultima volta che mi è capitata, perché in altre occasioni mi è capitato di essere invitato, diciamo, a parlare della questione. L'ultima volta che l'ho fatta, l'ho fatta il novembre scorso, in occasione, in questo caso, del sessantesimo anniversario della tragedia, e sono stato, perché mi hanno invitato, ad un liceo del veronese, liceo di Legnavo, liceo Cotta, dove i professori mi hanno chiesto di fare questo intervento, e loro stessi, nella settimana precedente, avevano fatto tutte le attività rivolte alla tematica del Vajonte, è stato molto bello, l'hanno organizzato veramente molto bene, perché ogni professore, in funzione della propria materia, aveva affrontato la tematica da un punto di vista diverso, quindi i professori di filosofia o di storia, eccetera, e devo essere sincero, c'erano 250 studenti, quindi era una platea veramente numerosa, e soprattutto molto interessata, è stato piacevole anche fare questa cosa, e vedere, insomma, che gli studenti sono stati così interessati alla cosa. Diciamo che l'argomento Vajonte, in generale, è un argomento che mi sta abbastanza a cuore, perché proprio negli anni ho avuto modo di approfondirlo, di studiarlo, e una cosa che posso raccontare è che, in realtà, le vicende, le dinamiche del Dipartimento mi hanno portato adesso a condividere l'ufficio in cui sono, con il professor Dal Paos, e in questo momento, credo, ma ho quasi la sicurezza, perché me l'ha confermato il professor Dal Paos, sono seduto alla scrivania che è stata del professor Ghetti, e devo essere sincero che qualche volta mi capita, anche qui, finché preparavo, diciamo, questa intervista, di riflettere sul fatto di che sensazioni può aver provato il professor Ghetti, sono seduto a questa scrivania, negli anni immediatamente successivi alla vicenda, e per tutto quello che poi ne è venuto anche dal punto di vista, diciamo, della tragedia, e poi delle dinamiche processuali che sono state, per cui, sinceramente, ogni tanto mi capita di, diciamo, di riflettere su questa cosa. Un legame a doppia mandata, diciamo, doppio filo. Hai accennato alle gite, ma si visita anche, come parte di queste gite con gli studenti, si visita anche il modello di nove, oppure si va soltanto Longarone, Erto Casso? Quando le abbiamo fatte, noi abbiamo sempre cercato di unire due cose, quindi prendendo contatto con l'Enel, che ha, diciamo, la sede dove il modello è ancora esistente, almeno nella parte muraria, diciamo, è possibile, ma sono molto disponibile da questo punto di vista, per cui tipicamente accompagno gli studenti anche a vederlo, a vederlo per quello che si può vedere lì, e poi, vabbè, di solito, ne abbiamo anche altri concetti legati all'assolutamente idroelettrico, che, se vogliamo, è un po' anche collegato perché, comunque, la diga del Vaillant è stata fatta anche per quello. E' un'ordine, infatti, anche per quello. Certamente. Ebbè, allora, partiamo dalla storia del modello. Ci puoi raccontare come, ed utilizzando quali criteri idraulici, è stato costruito? Sì, allora, l'ho accennato prima, diciamo, la teoria che sta dietro alla creazione del modello, e quindi alla modellazione fisica in generale, è una teoria, diciamo, nota, quindi in idraulica, si chiama teoria della similitudine, e si basa, di fatto, su un teorema, che, vabbè, prende il nome del teorema di Buckingham, che è riconosciuto anche come teorema del pi greco. Adesso cerco di fare semplice, una cosa che semplice non è, e spero di riuscirci, non vogliatemi se non ci riuscirò. L'idea sostanzialmente è questa. Questo teorema dice che se io immagino un fenomeno fisico, qualsiasi, e individuo quelle che sono le grandezze fisiche che hanno rilevanza nel fenomeno stesso, grandezze fisiche come che possono essere la velocità, il tirante, la gravità, insomma, quello che io capisco può giocare un ruolo rilevante all'interno del fenomeno fisico. E immagino che ci sia una legge che è quella che descrive il fenomeno. Dico immagino perché in realtà non è importante che io la conosca, però so che ci sarà una legge che sostanzialmente lega queste grandezze fisiche e che sarà la legge che descrivere la dinamica di questo processo, se appunto è un processo dinamico. Ecco, allora, questo teorema dice che questa legge che è funzione di questi n parametri fisici che governano il processo, in realtà può essere riscritta in funzione di un numero prefissato inferiore ad n di parametri adimensionali, gruppi adimensionali. Questi gruppi adimensionali altro non sono che una sorta di riorganizzazione di queste variabili in modo tale da formare delle quantità dei rapporti che all'analisi dimensionale risultano appunto adimensionali. E quindi l'idea che sta dietro questa analisi è quella che a questo punto se io ho una legge che è scritta in funzione di questi parametri adimensionali e riesco a fare un modello in scala ridotta in cui rispetto le proporzioni geometriche del mio modello fisico, ecco, il rispetto dei gruppi adimensionali tra il modello in scala ridotta e il reale permette di, diciamo, trasferire quello che ottengo nel modello in scala ridotta a dei risultati che poi hanno valenza sul reale. Quindi qual è il vantaggio di questa cosa? È che se io mi riesco a creare un modello in scala ridotta riesco a maneggiare molto meglio i processi, le quantità, eccetera, e quindi io mi metto in condizioni in cui posso condurre degli esperimenti in maniera più agevole e dopo ho la certezza, se questa legge è rispettata, di poter trasferire i risultati al reale. In realtà la cosa non è così semplice come la diciamo, perché purtroppo ci sono delle quantità che io non sono in grado di scalare. Se scalo le dimensioni della geometria, diciamo, del mio modello, io dovrei portarmi dietro anche dei rapporti scala delle varie grandezze, ma certe grandezze non posso scalarle. Faccio un esempio. La gravità è la gravità. Se io l'esperimento e il reale cedio sulla Terra, la gravità è sempre quella perché non ho cambiato luogo. Se uso lo stesso fluido, la viscosità del fluido, la sua densità, sono sempre quelle. E quindi questa impossibilità che ho di scalare tutte le grandezze mi inibisce, sostanzialmente mi impedisce di poter rispettare tutti i gruppi adimensionali. E quindi questa è una limitazione della teoria, ma che in realtà, dal punto di vista pratico, ingegneristico, si supera perché quello che si fa normalmente è andare a selezionare all'interno dei gruppi adimensionali che giocano un ruolo, quelli che giocano il ruolo preponderante. Nello caso specifico dei modelli, diciamo, in scala, in scala di due, del modello del Bayon, questo è stato un modello di un fenomeno, diciamo, a pelo libero, quindi a superficie libera, e in questo caso il gruppo adimensionale che gioca in ruolo preponderante si chiama numero di Froude, non perché sia importante il nome, ma perché probabilmente può esservi capitato di sentir parlare del modello del Bayon come un modello in scala o in similitudine di Froude. Il motivo è proprio perché in quel modello viene fatta rispettare in maniera rigorosa il valore del numero di Froude. E a questo punto che cosa posso fare io a fronte di questo, con il mio modello? In realtà posso, usando, diciamo, imponendo il rispetto del numero di Froude, capire come scalano le varie grandezze, quindi capire come posso riportare al reale le grandezze che ho misurato nel modello. Nel caso specifico del modello del Bayon è stata scelta la scala di riduzione e poi eventualmente ci torneremo a scala 1 a 200, vuol dire che il modello è stato fatto 200 volte più piccolo del reale. E proprio imponendo il rispetto del numero di Froude si può vedere come scalano le altre grandezze, in particolare la velocità. La velocità si dimostra che scala come la radice quadrata della scala geometrica e quindi sostanzialmente se io ho la velocità nel modello è pari alla velocità reale diviso per la radice di 200, quindi è circa divisa per 14 volte, 14 volte più piccole, quindi questo permette di fare le misure nel modello e poi scalare e portare i risultati introduttati al reale. Quindi questo è un po' la teoria che ci sta dietro. che cosa è stato fatto con il modello sostanzialmente la committenza, la SADE nel caso specifico all'epoca aveva fornito le indicazioni al professor Greta e al gruppo degli sperimentatori relativamente a quelle che dovevano essere i parametri da testare, il volume della frana, il piano di scivolamento, i tempi di caduta e sulla base di questi parametri poi sono state condotte le simulazioni. Nel caso specifico il parametro che poi vedremo giocherà un ruolo fondamentale nella vicenda è stato proprio il tempo di caduta che la SADE aveva suggerito doveva essere investigato dell'ordine di grandezza di alcuni minuti e quello che si pensa che immagino è che questa indicazione fosse desunta dagli effetti o da quello che era successo in una frana che era quella di Ponte 6 sul torrente Maè in una diga che era costruita dalla parte della sfonda opposta del Piave che era caduta nel 1959 che aveva sostanzialmente attivato tutti questi ragionamenti relativi alla possibilità che potesse avvenire una cosa analoga anche sul lago del Vajonte e quella era caduta in mi pare 7-8 minuti e quindi l'ordine di grandezza dei tempi di caduta che si pensavano ragionevoli era dell'ordine di grandezza appunto di alcuni minuti sì il 22 marzo del 1959 creando un'onda che poi aveva travolto dal lato opposto dal spondo opposto del lago Arcangelo Tiziani quindi aveva causato anche una vittima già allora diciamo qual era il ruolo dell'università di Padova nella realizzazione di questo modello e nello svolgimento delle prove beh diciamo che in qualche modo possiamo anche domandarci perché la Sade aveva deciso di dare questo incarico all'università di Padova allora diciamo che la storia dell'idraulica a Padova è molto lunga e non credo che sia questo il posto il contesto dove ricordarlo raccontarla ricordo solo che giusto per contestualizzare la cosa la prima cattedra di idraulica al mondo fu creata a Padova nella prima metà intorno al 1740 mi pare e fu diciamo attribuita a Giovanni Poleni che di fatto fu il primo idraulico senso lato del termine e questa l'istituto di idraulica che all'epoca era il mio dipartimento all'epoca si chiamava invece istituto di idraulica ed era intitolato proprio a Giovanni Poleni era sicuramente in quel momento una uno dei dei posti diciamo più prestigiosi dove sicuramente c'erano le competenze teoriche ma anche tecnico pratiche per quanto riguarda il laboratorio quindi anche i tecnici che erano in grado di condurre di condurre diciamo esperimenti su modelli fisici che ricordo in quegli anni erano molto più frequenti di allora c'è stato poi un periodo in cui non si sono più fatti con l'avvento della modellazione numerica sono sincero adesso stanno anche riprendendo un po' un po' piede ecco il professor Ghetti era all'epoca dei fatti il direttore del dipartimento dell'istituto di idraulica direttore del laboratorio di idraulica costruzione idraulica e quindi credo che la scelta sia ricaduta su questo dipartimento su questo istituto proprio perché insomma aveva tutte le competenze per poter svolgere diciamo queste prove su un modello che ricordiamo non aveva precedente in Italia ma probabilmente neanche nel mondo quindi immagino che sia stata questa la motivazione per cui il gruppo di Padova ha svolto queste analisi quindi abbiamo visto fino adesso la teoria dietro al modello e perché l'università di Padova era stata incaricata di supervisionare diciamo la costruzione ma anche lo svolgimento delle prove quindi io andrei sul pratico in che modo venivano svolte queste prove sul modello sì allora il modello intanto non fu realizzato qui a Padova forse l'abbiamo già detto il modello è stato realizzato nel centro dei modelli idraulici Ettore Scimemi A9 Ettore Scimemi tra l'altro è stato anche lui un eminente idraulico che ha che ha lavorato e ha diretto diciamo l'istituto di idraulica e questo questo modello è ancora visibile diciamo lì è rimasta la parte muraria ecco il modello in sé riproduceva tutta la valle del Vajonte quindi la diga e tutta la valle a Monta del Vajonte quindi circa 5 km di valle non solo la valle principale va bensì anche alcune diciamo valli secondarie di affluenti che di destra e di sinistra si mettevano appunto nel Vajonte stesso e si scelse come abbiamo detto di riprodurre di fare il modello in scala 1 a 200 quindi 200 volte più piccolo del reale e la scelta della scala di riduzione anche questa è stata vagliata e quello che si può leggere nella relazione conclusiva è che appunto questa scala fu scelta perché era permetteva una attendibile riproduzione della in base alla similitudine di Freud dei fenomeni di modo ondoso senza introdurre perturbazioni legate che ne so alla viscosità o alla tensione superficiale perché spesso esagerare con la scala di riduzione può far intervenire delle forze che in realtà nel reale proprio perché le dimensioni sono molto più grandi non hanno questa rilevanza quindi c'è anche nella scelta della scala di riduzione la necessità di stare attenti diciamo a non incorrere in queste distorsioni quindi la scala 1-200 è stata scelta come opportuna proprio perché non faceva sopravvenire queste distorsioni quindi il rendere queste forze più importanti di quelle che sono invece nella realtà e oltre al modello diciamo alla riproduzione della valle poi si riprodusse anche diciamo la sponda in particolare la sponda sinistra del del Vajonte dove c'era la frana e che quindi doveva essere simulata quindi in questo caso la frana parte da circa 75 metri a monte a monte della 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 diga e l'ammasso franoso sostanzialmente interessava un corpo di frana che andava da circa 600 metri sul sul medio mare fino a 1200 metri e la profondità nel punti più alti era di circa 200 metri quindi questo portò anche alla stima attraverso diciamo passaggi successivi di quello che poi è stato effettivamente il volume della frana che è uno dei dati che sono stati ricostruiti prima con la maggior precisione ecco l'ammasso franoso che ripeto era in sponda sinistra aveva quella famosa forma ad M ed è stato sostanzialmente era diviso in due parti che erano divise da una valle di un torrente secondario il torrente il torrente era il torrente massalezza e sostanzialmente si pensava che che questa che questo torrente potesse dividere il corpo di frana in due parti che potessero anche avere dinamiche di caduta di caduta diverse ecco il il modello della frana fu fatta scendere all'interno del lago conducendo due serie di prove la prima serie di prove è stata condotta immaginando un piano di scivolamento caratterizzato da un piano ok protetto da una lamiera e era possibile modificare l'inclinazione di questo piano in particolare hanno fatto degli esperimenti facendo posizionando il piano con un'inclinazione di 30 gradi e un piano con un'inclinazione di 45 gradi questo era un po' il modo anche che si aveva per variare la velocità di caduta ok perché la gravità è quella e quindi riuscendo a dare maggiore pendenza era possibile accelerare in secondo caso la velocità di caduta e quindi andare a investigare una situazione in cui le velocità di caduta fossero maggiori successivamente a questa prima serie di prove su piano diciamo inclinato anche credo per l'evoluzione delle indagini geologiche geotecniche che avevano portato a correggere la stima di quella che doveva essere la superficie di scivolamento portandola anche ad essere più profonda e avere una forma più a sella per cui c'era un tratto più ripido che poi diventava quasi suborizzontale fino ad avvicinarsi al lago quindi questo aveva diciamo modificato diciamo quella che era l'ipotesi del piano di scivolamento che poi si dimostrò anche particolarmente corretta e a quel punto la Sade trasmise ai risultati di queste indagini geologiche geotecniche al professor Gheppi che modificò il modello diciamo costruendo questo piano di scivolamento secondo le indicazioni e a quel punto il materiale della frana fu fatto che la velocità di caduta del materiale non poteva più essere regolata cambiando l'inclinazione perché la superficie di scivolamento era fissa e quindi la variazione della velocità di caduta si ottenne inserendo sostanzialmente dei setti all'interno dell'ammasso setti che poi con delle corde erano trasportati dall'altra parte e attraverso un trattore un vero e proprio trattore una serie di pulegge la velocità veniva imposta dal movimento del trattore e quindi si poteva regolare qual era quella che era la velocità della velocità della frana la frana stessa era inizialmente prima dello svolgimento della prova messa diciamo adagiata sul su questa superficie di scivolamento che fosse il piano piuttosto che la superficie di scivolamento successiva e mantenuta in posizione attraverso delle reti o delle teli di juta che erano sostenuti da delle corde che quindi la facevano rimanere in posizione al momento dell'avvio della sperimentazione le corde venivano allentate nel caso del piano inclinato la caduta veniva per gravità nel caso del trattore invece venivano allentate le corde e il trattore generava quella che era la velocità di caduta che quindi era possibile diciamo variare a seconda della necessità diciamo della volontà dello sperimentatore in entrambi i casi il materiale che fu utilizzato per riprodurre la frana fu del materiale ghiaioso ecco qui fermiamoci un attimo su questo punto perché una critica che viene mossa spesso al modello idraulico è il mancato utilizzo di un materiale compatto per simulare la frana a favore del materiale ghiaioso come dicevi tu tuttavia sappiamo adesso dopo che si sono svolti i fatti che questa critica risulta essere infondata ma ci aiuti a capire il perché sì esatto quella questione legata alla scelta del materiale è stata spesso oggetto oggetto di critiche sia nell'immediato diciamo nei giorni nei mesi immediatamente successivi all'evento ma è una critica che poi si trascina nel nel tempo non ultimo diciamo anche il famoso racconto del Vajonte di Marco Paolini quando l'autore racconta del modellino idraulico come lo chiama lui diciamo non si soperma sul fatto che invece di considerare un ammasso compatto di roccia che scende dalla montagna in realtà gli sperimentatori hanno usato ghiaia del piave ecco diciamo che la critica diciamo non considera un aspetto fondamentale di quello che è che è il fenomeno anche nella sua diciamo riproduzione in scala che è la velocità di caduta ok il il fattore fondamentale che poi rende come vedremo ha reso la scelta di quel materiale comunque idoneo è proprio legata alla velocità di caduta la critica è facile da fare perché uno guarda la ghiaia diciamo come la ghiaia è super permeabile è venuto giù un ammasso roccioso di fatto praticamente compatto come possono le due cose essere paragonabili ripeto la questione è proprio legata alla velocità di caduta cercare di fare chiarezza diciamo su questo aspetto mi permetto di leggere un estratto di un libro che del professor Datei si chiama il Vaionte la storia idraulica che è stato scritto nella prima edizione nel 2005 all'epoca di fatti il professor Datei era un collega del professor Ghetti che diciamo intervenne anche in quelli che sono diciamo gli eventi successivi e lui racconta descrive questa scelta del materiale e la giustifica diciamo anche la scelta in un modo che anche a livello di prosa secondo me merita di essere di essere letto così com'è per cui mi permetto di leggerlo nella sua versione ho fatto un breve estratto dal suo libro il professor Datei dice il problema di quale materiale dovesse essere composto l'ammasso si pose ovviamente come primo tema nella fase di progettazione del modello un materiale sciolto incoerente fu ritenuto il più adatto essenzialmente per la sua adattabilità a scorrere sulla prevista superficie di distacco la questione dell'elevata permeabilità del materiale ghiaioso e della sua influenza sul fenomeno undoso non fu però ritenuto rilevante e qui viene il punto saliente l'elevata velocità della massa e del fronte ne avrebbe assicurato la compattezza quasi dimenticandosi la massa in quegli istanti e per la brevissima durata del fenomeno la sua natura di materiale permeabile e la prima volta che ho letto questa frase ho detto sinceramente sfido chiunque a dirla meglio questa cosa mi permetto giusto per aggiungere qualche cosa facendo un esempio che potrebbe essere anche banale ma forse aiuta a capire la questione se noi prendiamo una vasca dell'acqua e prendiamo un passino vogliamo anche un retino ma magari abbastanza fito un passino uno scolapasta che di per sé nasce per far passare l'acqua ecco se noi lo immergiamo e muoviamo questo passino sulla superficie d'acqua se lo muoviamo lentamente sostanzialmente l'acqua vi passa attraverso e quello che noi notiamo sulla superficie dell'acqua è una minima incraspatura se non addirittura se non viviamo sufficientemente in modo lento nulla beh se lo stesso passino lo immergiamo e lo muoviamo rapidamente di fatto si comporta come una paletta cioè la stessa cosa la otterremmo se mettessimo una paletta completamente impermeabile e muovessimo quindi questo fa capire quanto la velocità con cui si muove la cosa fa perdere diciamo di importanza di rilevanza il fatto che sia in qualche modo permeabile quindi diciamo il motivo per cui la critica è effettivamente da ritenersi totalmente infondata per quanto riguarda la scelta del materiale è proprio legata a questo ed è stato anche dimostrato in maniera più che convincente non ultimo anche nel libro del professor del professor datei quindi diciamo la critica al materiale per quanto possa sembrare sensata in realtà dal punto di vista tecnico è totalmente infondata devo dire che la prosa di datei è insuperabile però anche l'esempio del passino rende rende molto bene l'idea del fenomeno quindi grazie per per questa spiegazione alla fine degli esperimenti viene stilata da parte del professor ghetti la famosa relazione che contiene l'infausta indicazione di 700 metri sul livello del mare come quota di assoluta sicurezza quali sono gli elementi che nel corso degli esperimenti hanno portato a questa conclusione sì allora nel come diciamo in quel modello come l'abbiamo descritto poc'anzi vengono condotte diverse prove e seguendo appunto anche quelle che erano le indicazioni per la committenza della Sade relativi ai parametri e in qualche modo malauguratamente cercando anche di andare oltre questi numeri come adesso vedremo allora le prove sono condotte sono condotte considerando tre livelli di invaso all'interno del lago in particolare nel modello furono fatte diverse simulazioni queste simulazioni assunsero il livello più alto pari a 722,5 metri sul medio mare che era il livello di coronamento della diga quindi l'invaso completamente pieno l'ago al massimo livello poi sono condotte considerando 700 metri sul medio mare quindi circa 22 metri più in basso e anche una terza serie di prove considerando il livello ancora più basso a pari a 670 metri sul medio mare e come dicevamo prima la committenza aveva indicato in particolare per il parametro cruciale che è quello dei tempi di caduta appunto quegli alcuni minuti nonostante questo gli sperimentatori come spesso si fa quando si fanno questo tipo di analisi si tentarono di andare a indagare situazioni ben più gravose e si spinsero a fare diciamo prove e sperimenti che arrivarono a testare tempi di caduta che si avvicinarono ai 60 secondi quindi al minuto che cosa fecero in particolare analizzarono proprio per vedere di mettersi nelle peggiori condizioni possibili anche diverse dinamiche di collasso della della frana leggendo la relazione ho potuto andare a scoprire anche perché questa cosa non la sapevo che appunto siccome si immaginava che la frana potesse essere diciamo costituita da due entità due corpi divisi da quel torrente che menzionavamo prima andarono a condurre le prove diciamo immaginando che potessero innescarsi in maniera separata con tempi diversi e nella scelta dei tempi andarono a diciamo a immaginare diciamo il primo collasso della parte più a monte la quale ovviamente cadendo innescava già un'onda e quindi un processo dinamico e a quel punto la scelta fu quella di far cadere il secondo ammasso ovvero quello più vicino alla diga in modo da interagire nel peggior modo possibile quindi esaltare il più possibile la dinamica oscillatoria che già si era innescata nel lago e quindi facendola cadere in modo che questo fosse diciamo la peggiore in termini di esaltazione del fenomeno possibile e fecero questa cosa appunto considerando queste tre queste tre quote nel lago partendo con quella massima che era 722 5 metri sul medio mare ovvero lago pieno andarono poi l'oggetto il risultato principale era capire l'onda che si generava ma in particolare se c'era dell'acqua che sormontava la diga e quindi stimare i volumi ed eventualmente la portata che poteva diciamo generare questo sormonto che poi era quello che inizialmente si pensava come la cosa peggiore che poteva capitare perché poi quell'acqua si sarebbe propagata verso valle lungo la valle poi a Longarone ecco condussero queste prove in particolare considerando il serbatoio completamente pieno quindi 722,5 metri sul medio mare e facendo cadere la diciamo l'ammasso con un tempo di caduta di un paio di minuti che era già inferiore al a quello diciamo indicato però col senno di poi era comunque più lungo comunque già con queste tempi di caduta il serbatoio pieno si generavano delle ordine delle onde dell'ordine di grandezza della ventina di metri e soprattutto il sormonto della diga portava a una propagazione verso valle di un'onda di piena che poteva raggiungere i 20.000 metri cubi al secondo che quindi era un valore decisamente importante e questo diciamo dimostrò che la caduta dell'ammasso con il lago pieno sarebbe stato in ogni caso anche con quei tempi di caduta poi non si realizzarono è comunque catastrofico di conseguenza si condussero poi le prove con 700 e poi 670 metri sul sul medio mare e in particolare conducendo le prove con la quota di 700 metri sul medio mare gli sperimentatori si spinsero a condurre una prova che impose come tempi di caduta circa 60 secondi per la precisione 61 secondi arrivarono a sperimentare in quel caso questa che era la situazione più gravosa anche per la dinamica che avevo descritto prima sulla sequenza delle cadute ecco in quel caso con quei tempi di caduta si ottenne l'onda più alta tra tutte quelle che sono tenute per quel livello di invaso che fu di circa 27 metri onda dinamica a cui si deve aggiungere qualche metro di incremento statico ma insomma circa 30 metri diciamo con quest'onda si aveva una parte di sormonti in parte dell'acqua sormontava il coronamento ma la quantità la portata massima che transitava verso valle era di circa 2000-2200 metri al secondo quindi un ordine di grandezza più bassa rispetto a quella che dicevamo prima e questa questa diciamo questo risultato portò al alla scrittura immagino da parte del professor Gretti della famosa frase che riteneva i 700 metri sul medio mare quindi una quota di assoluta sicurezza assoluta perché per quello che abbiamo detto sostanzialmente lo sperimentatore se l'ha trovato a investigare dei tempi che erano decisamente più bassi dei qualche minuto che gli era stato chiesto di investigare in più aveva messo in conto le dinamiche di diciamo innesco e caduta della frana peggiori che uno poteva immaginare se a quel punto in quelle condizioni si arrivava ad avere comunque un sormonto limitato mi immagino che quello sia stato il motivo per cui nella relazione è stato scritto appunto che la quota di 700 metri sul medio mare era una quota sostanzialmente di assoluta sicurezza perché di fatto si erano immaginate tutte le cose peggiori che potevano immaginabilmente all'epoca succedere i dati della centrale di Soverse ne mostrano come alle ore 22 del 9 ottobre 1963 appena 39 minuti prima del disastro che è avvenuto alle 22.39 la quota del lago del Vajonto fosse a 700,42 metri poco meno di mezzo metro in più rispetto alla quota di assoluta sicurezza raccomandata dal professor Ghetti eppure l'onda che poi ne è scaturita in realtà è stata molto superiore a quella simulata sul modello come si spiega questa discrepanza? Effettivamente la notte della tragedia la quota del lago era praticamente diciamo ai famosi 700 metri sul medio mare anzi diciamo che questa quota se uno va a guardarsi le registrazioni può osservare che sia di fatto stata inseguita ovvero nel famoso terzo terza prova di invaso ripartirono a invasare il lago raggiunsero i 700 metri e li superarono portandosi a 710 anzi superarono anche i 710 metri sul medio mare salvo poi accoggersi che qualcosa stava la frana era monitorata per cui si legge anche dai risoponti di chi quella notte era presente o era in servizio per cui seguiva l'evoluzione dei movimenti della frana e a un certo punto ci si accorse che si stava muovendo e si stava muovendo molto velocemente di fatto questa poi col senno di poi guardando le registrazioni si può osservare che ogni volta che in un successivo invaso veniva raggiunta la quota che era stata raggiunta nel precedente ecco da quel momento in poi la frana cominciava a muoversi più velocemente come se sostanzialmente ogni invaso avesse in qualche modo invibito la frana a quel livello e poi l'abbassamento lo avesse in qualche modo stoppata poi ripartendo quando si superava quel valore questa ricominciava a invibirsi di più e quindi ripartiva il movimento quindi raggiunti e superati i 710 metri sul medio mare si decise di abbassare il livello andando un po' a rincorrere probabilmente quella famosa quota di assoluta sicurezza che erano i 700 i 700 metri e possiamo dire col senno di poi che in qualche modo forse anche questa operazione può aver diciamo avuto un ruolo in quello che è successo perché il fatto di abbassare in maniera piuttosto rapida l'invaso ha in qualche modo tolto la spinta idrostatica che comunque si opponeva in quota parte alla discesa della frana quindi andando a togliere anche questa spinta è molto più che probabile che questo abbia ulteriormente accelerato quello che era il fenomeno che si stava che si stava innescando fatto sta che effettivamente al momento diciamo della frana del lago c'erano i famosi 700 metri sul medio mare e a questo se vogliamo possiamo anche aggiungere che il giorno i giorni successivi immediatamente successivi all'evento le prime stime della velocità di caduta ex post della frana stessa furono dell'ordine del minuto e quindi a questo punto ci si trovava nei giorni successivi di fronte a due dati che erano 700 metri sul medio mare un minuto di tempo di caduta e fatalità la prova condotta dal professor Ghetti nel modello se vogliamo anche abbiamo visto un po' per forse eccesso di zelo che quindi lo aveva portato ai loro tempi di caduta portandoli a 60 secondi e in realtà faceva combaciare i dati con quello che era veramente successo l'unica cosa che non tornava era l'altezza dell'onda che invece di 27 circa 30 metri era stata ben più alta quasi di 200 oltre 200 metri e quindi ovviamente questa cosa portò a mettere sotto accusa il risultato del modello e di conseguenza anche l'operato del professor Ghetti meno nota è probabilmente quello che è successo nei mesi anni successivi quando anche il professor Ghetti stesso andrò più a fondo sulla questione e cercherò di raccontare brevemente questi due aspetti la prima cosa riguarda il tempo di caduta il tempo di caduta in realtà come dicevo prima immediatamente da Polafrana fu stimato nell'ordine dei 60 secondi quindi circa un minuto successive analisi che hanno messo in moto altri diciamo ipotesi di movimento hanno invece portato a correggere questa stima e portarla a circa mezzo minuto 25 secondi numero che poi fu anche confermato dalle registrazioni sismiche che furono registrate appunto nella diga di Pieve di Cadore che si trova sempre nel bacino di Piave più a nord e appunto le registrazioni sismiche dalle registrazioni sismiche gli esperti sono riusciti ad individuare le varie fasi diciamo del fenomeno stesso e quindi individuare quella che è stata proprio la fase della caduta della frana e mi pare che la stima con quella con il sismogramma portasse a stimare in 24 virgola qualche cosa in circa 25 secondi anche uno può dire insomma stavamo parlando di 60 25 secondi sì è meno è più o meno metà un po' meno di metà in realtà il problema la questione è che l'onda che si viene a generare per effetto della velocità della caduta scala con il il rapporto dei tempi cioè il legame non è lineare ma viaggia con in funzione del rapporto dei tempi con un esponente che sta tra 2 e 3 questa era un po' l'ipotesi che si evinceva dai dati che erano stati già analizzati e che quindi parebbe sì avrebbe fatto sì che una riduzione da 60 a 25 secondi non fosse in realtà una riduzione tanto trascurabile e questa cosa fu investigata un ulteriore diciamo dettaglio proprio dal professor Ghetti il quale costruì e questa volta lo fece qui in dipartimento un ulteriore modello in realtà in questo caso era un modello bidimensionale in scala 1 a 500 quindi in realtà diverso per dimensioni quindi più grande rispetto a quello che fu di prodotto a 9 che però riproduceva solo una fetta sostanzialmente del bacino però la fetta in cui diciamo si innescava la frana anche lì era in condizione di variare diciamo la velocità di caduta della frana e questo permise agli sperimentatori di condurre diverse simulazioni la prima fra esse fu quella che voleva riprodurre risultati ottenuti con il modello di 9 quindi fu fatta una simulazione con tempi di caduta intorno al minuto e questa simulazione anche in quel modello riconfermò che l'onda che si veniva a generare era dell'ordine dei 27 30 metri quindi fu una prima verifica che anche considerando diciamo una scala di riduzione inferiore il modello era i risultati erano comunque coerenti e a questo punto si spinsero anche ad analizzare tempi di caduta più ridotti quindi arrivarono ai famosi 25-20 secondi e quello che emerse fu proprio che veniva confermata questa diciamo andamento legato ad un esponente maggiore dell'unità quindi intorno a 2-3 e effettivamente con quei tempi di caduta l'onda che nel modello si veniva a generare era dell'ordine dei 200 metri che era perfettamente in linea con quello che si è verificato quindi di fatto tutto anche qui ruotò attorno ai tempi di caduta tempi di caduta che all'epoca dei fatti prima dei fatti erano sostanzialmente inimmaginati e se vogliamo anche inimmaginabili cioè pensare che una massa di quelle proporzioni potesse cadere con una velocità così elevata parlando di velocità si parla di quasi 100 km orari permettetemi di aggiungere che ci volle molto molto tempo e forse non so per qualcuno non è neanche convinto che ci siamo arrivati a capire dal punto di vista geomeccanico e geologico cosa è successo nella frana leggendo articoli anche molto più recenti degli anni 2000 ci sono autori che sostengono che quello che è avvenuto è legato al fatto che nella superficie di scivolamento dove era presente anche argilla è comunque una quantità di acqua importante per gli attriti che si sono venuti a realizzare si è generato una temperatura tale da far cambiare stato all'acqua quindi sostanzialmente l'acqua interstiziale è diventata a vapore acqua e quindi ha sostanzialmente creato una sorta di cuscinetto d'aria che ha completamente scollegato la massa della frana dal piano di scivolamento come se fosse un overcraft e quindi a quel punto la massa è caduta quasi senza nessun attrito solo con questa spiegazione pare si possano arrivare a ottenere velocità di caduta pari a quelle che si sono effettivamente ottenute e ripeto all'epoca probabilmente nessun geotecnico geomeccanico o geologo avrebbe immaginato che si potessero diciamo realizzare queste velocità tuttavia questi esperimenti diciamo hanno certificato la bontà degli esperimenti successivi hanno certificato la bontà dell'esperimento del modello di nove di Vittorio Veneto e la bontà dei risultati ottenuti fino al tempo di caduta di un minuto quindi sia dal punto di vista del materiale utilizzato sia dal punto di vista dei risultati ottenuti il modello di nove ha fatto il suo dovere da un certo punto di vista con dei tempi di caduta molto inferiori avrebbe potuto produrre in teoria poi gli esperimenti non sono stati mai riprodotti non sono stati mai fatti sul modello stesso di nove però questo nuovo modello che è stato costruito in scala 1 a 500 all'interno del dipartimento ha dimostrato che teoricamente si sarebbero potuti ottenere gli stessi risultati sul modello tridimensionale l'obiettivo di questa serie di episodi è quello di parlare del disastro del Vaillant per farlo conoscere quanto più possibile e come abbiamo fatto anche oggi cercare di imparare dagli errori commessi affinché non si ripetano mai più quale pensi sia la maniera migliore di mantenere viva la memoria di questo disastro penso che l'obiettivo di questa serie di episodi sia lodevole e ti ringrazio di uomite per avermi chiesto di fare questa intervista e spero nel mio piccolo di poter aver contribuito ad aggiungere un piccolo sassolino di conoscenza relativamente a come si sono svolti svolti i fatti almeno dal punto di vista idraulico sicuramente conoscere i fatti conoscerli per quello che sono quindi in maniera circostanziata è fondamentale anche per capire come sono andate veramente le cose capire dove eventualmente ci sono stati gli errori e se ci sono stati sicuramente cercare di non di non commetterli non commetterli più mi permetto di chiudere la cosa con un'osservazione che faccio spesso quando mi capita di fare questi interventi sul vaionte perché spesso mi capita appunto siccome mi chiamano per parlare magari di questi aspetti tecnici quindi il modello oppure la descrizione del fenomeno e la sensazione che ho alla fine è che diciamo si si diunga in questo modo a parlare in maniera un po' troppo distaccata un po' troppo assettica di quello che è successo sicuramente magari corretta dal punto di vista scientifico però diciamo in realtà la cosa la cosa importante che tendo sempre a voler ricordare alla fine di queste presentazioni è che il vaionte è stato prima di tutto una tragedia una tragedia umana che ha portato alla morte di più di 1900 persone e di queste 1900 persone circa 500 erano erano bambini per cui penso che la chiusura di questa intervista debba riportarci sostanzialmente a quello perché ricordando anche quello che poi si contestualizza tutto il resto e si capisce un po' anche la proporzione di quello che è avvenuto sono completamente d'accordo grazie per essere stato con noi Luca grazie davvero grazie a te nuovamente grazie per essere stati con noi vi rimando al prossimo episodio per approfondire una delle pagine più buie della storia del nostro paese saremo in compagnia di un nuovo ospite per ascoltare un'altra voce del vaionte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti